Dave si vantava con il suo capo un giorno, dicendo, conosco tutti quelli che c'è da conoscere, basta citare qualcuno, chiunque e io lo conosco. Stanco delle sue affermazioni, il capo mise alla prova le sue parole e disse, va bene Dave, che ne dici di Tom Cruise? Nessun problema capo, Tom ed io siamo vecchi amici e posso dimostrarlo. Quindi Dave e il suo capo volarono a Hollywood, bussarono alla porta di Tom Cruise e Tom Cruise gridò, Dave cosa succede? È un piacere vederti, entra per una birra. Anche se impressionato, il capo di Dave era ancora scettico. Dopo che lasciarono la casa di Cruise, disse a Dave che pensava che conoscere Cruise fosse solo fortuna. No, no, nomina chiunque altro, disse Dave. Il presidente Obama, ribatté prontamente il suo capo. Sì, disse Dave, vecchi amici, andiamo a Washington. E via andarono. Alla Casa Bianca, Obama notò Dave durante il tour. Li fece avvicinare e disse, Dave, che sorpresa. Stavo proprio andando a una riunione, ma tu e il tuo amico entrate e beviamo qualcosa prima e ci aggiorniamo. Bene, a questo punto il capo era molto scosso, ma ancora non del tutto convinto. Dopo aver lasciato il terreno della Casa Bianca, espresse i suoi dubbi a Dave, che lo esortò nuovamente a citare qualcun altro. Papa Francesco, rispose il suo capo. Certo, disse Dave, conosco il papa da anni. Quindi volarono a Roma. Dave e il suo capo si trovarono tra le masse, in piazza San Pietro in Vaticano, quando Dave disse, questo non funzionerà mai. Non riesco a catturare l'attenzione del papa tra tutte queste persone. Sai cosa? Conosco tutte le guardie, quindi lasciami salire al piano di sopra e uscirò sul balcone con il papa. Scomparve nella folla dirigendosi verso il Vaticano. Certamente, mezz'ora dopo, Dave apparve con il papa sul balcone. Ma quando Dave tornò, trovò il suo capo che aveva avuto un infarto ed era circondato dai paramedici. Facendosi strada al fianco del capo, Dave gli chiese, cosa è successo? Il capo lo guardò e disse, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tu e il papa siete usciti sul balcone e l'uomo accanto a me ha detto, chi cavolo è quello sul balcone con Dave?